Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video e benvenuti nella lezione numero 6 di Training Sportivo. Oggi parliamo della strategia del banca pareggio. Prima ad iniziare vi invito, mi raccomando, se non avete visto ancora le puntate precedenti, quindi dalla numero 5 indietro, quindi dalla 1 a 5, andate a recuperarla in questa playlist perché se non siete ancora abbastanza esperti per questa numero 6, non ha assolutamente senso andarla a vedere. Quindi guardate prima le altre 5 e, mi raccomando, iscrivetevi al canale Telegram che è completamente gratuito, dove vi do, dove vi fornisco gratuitamente, ancora per poco, tutte le giocate, diciamo, tutte le tradate che vado a fare in exchange. Ma oggi parliamo della strategia banca pareggio. E cos'è la strategia banca pareggio? È proprio il fatto di bancare il risultato di pareggio, ovvero lo 0 a 0, l'1 a 1, il 2 a 2 e così via. E come andremo a fare questo banca pareggio? Lo andiamo a vedere oggi. Quanto funziona? Non ci sono dati statistici alla mano perché effettivamente non è una cosa statistica, dipende dalla partita, come sta svolgendo la partita, devi essere in grado di leggere la situazione. Quindi non ci sono dati statistici alla mano perché dipende da una situazione a situazione. E bisogna analizzare la partita con cura. Vediamo in che situazioni per poter applicare il lay the draw. Le situazioni sono, innanzitutto, una partita molto accesa con difese ballerine. Non è un termine tecnico difese ballerine, ma è facile spiegare che una difesa ballerina è una difesa che non difende niente, praticamente subiscono molti gol e la partita è accesa, quindi ci sono azioni sia da una parte che dall'altra. Le due difese magari non ci sono, i giocatori titolari, oppure semplicemente sono disorganizzate. Un'eventuale superiorità numerica, cioè una delle due squadre gioca in inferiorità numerica, e quindi è molto probabile che nel lungo periodo, nei minuti finali di gioco, subira gol per il fatto della stanchezza. Quanto quota il banca per essere favorevole? Il banca in realtà deve essere abbastanza basso. Quello che consiglio sempre io è di tenermi sotto il 2, ma lo vediamo. Allora, le potenzialità, i pro e contro e a che quota giocare? Allora, i pro è che non importa sapere chi segnerà, perché non ci interessa, una delle squadre deve segnare. Siamo, ci troviamo al settantesimo minuto, la prima squadra che segna ci permetterà di fare cash out in positivo. Infatti, si esce appena arriva un gol. Appena arriva il gol, siamo automaticamente al 100% in profitto, se giochiamo la partita, per esempio, settantesimo, settantacinquesimo. Dopo il settantesimo, in caso di pareggio, la quota del banca X è spesso sotto il 2, quindi inizia ad essere una quota favorevole. Il rischio, diciamo, è abbastanza basso, perché con la quota sotto il 2, il banca, diciamo, andiamo a mitigare molto, molto il nostro rischio. I contro. Allora, si tiene fino alla fine, perché il gol spesso arrivano negli ultimi minuti di gioco e addirittura possono arrivare nei minuti di recupero. E quindi, quando si va a perdere la giocata, si perde l'intero stake. Ragazzi, questa è la mia strategia personale. Ci sono tanti altri trader, professionisti, come no, che dicono che questa strategia va tenuta fino all'ottantacinquesimo, ottantatreesimo. Io, personalmente, ho riscontrato che la maggior parte dei gol avvengono tra l'ottantacinquesimo e i minuti di recupero, nel mio caso e nelle mie letture. Quindi, personalmente, ho deciso di prolungare questa strategia fino alla fine della partita. So che magari sembra, qualcuno di voi me l'ha commentato anche ultimamente su YouTube, me l'ha commentato, ma spesso tiene le giocate fino alla fine. Beh, se serve, se mi sento che aspettare fino alla fine è la soluzione migliore, sì, aspetto fino alla fine. Perché anche una partita che è sul 2-0, ma non abbia, e sembra praticamente in banca, con cashout che non è al 100%, ma all'80%, perché perdere quel 20% quando siamo sicuri che la partita andrà a finire in quel modo? La stessa cosa per il banca X. Quando siamo sicuri, o abbiamo, diciamo, le statistiche a nostro favore, perché non tenere il banca X, il lead draw, fino alla fine? A che quota giocare? Il mio consiglio è quello di giocare la quota X con quote pari o inferiore a 2, e spesso si trovano a fine partita, quindi tra il settantesimo e il settantacinquesimo. Sconsiglio di giocare il banca X dopo l'ottantacinquesimo, perché ok, la quota sarà molto vantaggiosa, ma ci sono veramente poche possibilità che arrivi un gol. Quello che vi consiglio io è tra il settantesimo e l'ottantesimo. Win rate. Io direi che il win rate è un 50-50. Il 50% delle volte andrete in vittoria e il 50% delle volte andrete in loss. E come facciamo a far profitto se abbiamo un win rate del 50-50? Qui dobbiamo gestire il nostro rischio, dobbiamo gestire proprio il nostro rischio, perché se andiamo a giocare ad una quota inferiore al 2, quindi il banca ad una quota inferiore al 2, stiamo diminuendo il nostro rischio, portando il nostro win rate un po' superiore alla loss. E questa strategia è una strategia che ti permette di fare vincite a lungo termine, ma neanche a medio termine direi proprio di no, a lungo lunghissimo termine. Devo dire, devo essere onesto. Però ha il suo vantaggio, perché in partite dove vedete che queste situazioni che vi ho elencato poco fa si verificano, può venire fuori l'occasione di giocare il Lady Draw. Io personalmente non ne vedo altre, ci sono anche altre persone che onestamente giocano questo Lady Draw in altri modi, ma personalmente, per esempio con lo sniping, dando il risultato fisso della partita, quindi magari azzeccando la squadra che segnerà, ci può stare, quindi andremo a bancare l'X e poi magari individuare la partita vincente, quindi la squadra vincente, e poi scommettere la X contemporaneamente, oppure andare a bancare la X e andare a giocare lo 0-0, quindi cercando di fare win coprendosi. Ci sono vari modi di giocare Lady Draw, ma personalmente questo è quello più semplice da individuare e quello più funzionale. A me non piace onestamente, vedo altri youtuber che postano, diciamo, certe strategie, Lady Draw, sniping, super under, mega, ultra. Le cose basi, secondo me, sono le migliori. Andate sul base, non esagerate con il complicato. Certo, in alcune situazioni, ma devono essere proprio situazioni specifiche. Se siete alle prime armi, come penso che voi siate, se guardate questo video, non andatevi a complicare troppo le cose, perché trovare la quota perfetta, la giocata perfetta, se non siete esperti, non è facile e rischiate di farvi male. Andiamo avanti. Lo studio pre-match, quindi le squadre che mediamente segnano abbastanza, quindi perché devono segnare dopo il settantesimo, abbiamo detto, soprattutto che segnano statisticamente nella seconda parte di gioco con maggior frequenza. Ci deve essere una favorita e quindi non è un must in realtà, perché come abbiamo detto non è importante chi segni delle due. Però è conveniente che ci sia una squadra più forte delle due, in modo che, diciamo, sia più facile che questa squadra negli ultimi minuti di gioco prenda il sopravvento. Però in questo caso voi mi potreste anche chiedere, ma perché allora a questo punto non puntiamo direttamente la squadra che pensiamo sia più forte? Beh, si potrebbe fare anche un punto a 1 al settantesimo, non ve lo nego, ma, per esempio, un punto a 1, un punto a 2, quello che è. Ma il Lady Draw, diciamo che è un po' più conservativo, sia dal punto di vista dei rischi, perché andremo a bancare il Lady Draw, quindi andremo a bancare l'X, e è anche più conservativo dal punto di vista del risultato, perché una squadra anche favorita può prendere tranquillamente gol in contropiede. Magari tutti davanti per segnare e poi gol in contropiede. Succede spesso, ragazzi, succede spesso. È successo ultimamente con l'Arsenal e io avevo puntato l'Arsenal, quindi se avessi bancato la X avrei fatto profitto. Studio sulla frequenza dei pareggi e sul numero di gol medi di una squadra. Allora, questo è un argomento importante e voglio prendere del tempo. Allora, se mediamente una squadra fa un gol, un gol, due a partita massimo, se ci troviamo in una situazione di 2-2 e la squadra di casa, anche se favorita, di media fa uno o due gol, io non andrei a giocare il Lady Draw, non andrei a giocare il Banca X. Perché? Perché questa squadra è abituata a fare uno, massimo due gol. Significa che non ha uno scoring rate alto. Quindi dobbiamo cercare anche di vedere quanto segnano le squadre e con quanta frequenza si accontentano del pareggio. Perché ci sono delle squadre, per esempio delle squadre magari di basso livello, che si trovano a pareggiare in questo momento con una squadra di più alto livello, di più alto rango, cercano di mantenere quel punto veramente coedenti. Quindi magari si chiudono in difesa, in una difesa estrema anche negli ultimi 20 minuti di gioco. Spero di essere stato esaustivo. Io ti chiedo di lasciare un like, di iscriverti al canale, di seguirci sul canale Telegram, di seguirci anche qua su, su YouTube. Like, supportate il canale e ci vediamo al prossimo video. Grazie a tutti di essere arrivati fino qua giù e ci vediamo con la prossima lezione. Ciao a tutti! Grazie a tutti!